e ben rifatti ragazzi sono il vostro meno e oggi siamo qua su poche mmo come sempre con il team chiogre salutiamo oggi come sempre elcio e scido che sono con noi ovviamente il nostro capo il nostro zeus dell'olimpo rom papa però oggi ciao si chiama in un altro modo ragazzi 80.000 account con mille mila soldi e può fare tutto non sappiamo come fa però oggi però con noi abbiamo un ospite particolare per la prima volta death dennis ciao salve salve ragazzi eravamo rimasti che dovevamo partire per andare nella via vittoria quindi non ci resta che incamminarci via 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 ragazzi buon ventesimo anniversario dei pokemon auguri auguri a tutti auguri a tutti hanno annunciato da pochissimo nel direct di ieri pokemon solo e luna io comprerò luna e ragazzi io io vi invito a guardare io vi invito ragazzi andare a guardare il video è il video di scido scido ha fatto un video su questa cosa di scido andate a guardarlo che lui ha presentato in diretta vero io devo vedere questa video sorpresa porca miseria andate a vederlo che è bellissimo che sono rimasto anche io sorpreso io spero l'abbiamo fatto bene cioè tipo io con solo e luna immagino un viaggio nello spazio perché se non lo mettono io mamma mia via tutto tutto via modo di prendere Deoxys in quel gioco no perché lo devono fare lo devono fare lo devono fare beh insieme a noi c'è anche la mia ragazza Ilaria in telecamera guardate ciao Ilaria ciao 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 allora allora io qui sto andando avanti sto andando avanti spero che non sia dimenticato niente eh ah già voi avete comprato qualcosa per repellenti tutte queste cose sono sempre i miei 50 repellenti di prima a posto a posto ciao 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 Elcio fa tipo farai io aspetta aspetta no 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 vedo quanti ne ho vedo quanti ne ho allora intanto c'è una cosa importante internet mi va lentissimo quindi avrò molti scatti no niente proprio non ho repellenti sono un barbone 3 super repellenti ma in questa erbettina qua cos'è che si trova ragazzi siamo arrivati goldac sei pronto? Sì sono pronto sono pronto ok bravo andiamo iniziamo per la mia vittoria Ho goldac perché prima era uno Psyduck schiavo ora sei voluto ora è un super schiavo Non me li fa andare a mettere io intanto inizio a spostare i massi visto che tanto qui ci sarà da rimboc... ecco primo pokemon Non so vai ma io adoro la musica di questo percorso Eh no io l'ho levata la musica perchè metto la mia Io la devo levare perchè è lagga Ah ok Perchè tipo va uno schifo Vai waterfall Si sentono bug dell'audio Allora iniziamo Sì dai ragazzi ora è tornata l'esclusiva della musichetta del gioco solo da Shiddle Island Come al solito Eh perchè ora lui che... No 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 semplicemente perchè lui ha presentato il video quello di pokemon solo e luna E ora gli arriva tutta la partnership e gli arrivano i soldi Eh esatto Quindi Shiddle ora è più ricco di tutti Sì per il copyright Gli monetizzano tutto e gli tolgono tutto il ricavato Eh mi dispiace Shiddle eh E' vero c'è il primo canale è così Succede Può succedere Ci sono allenatori dove? Dove sono allenatori? Lo sai questo? Ma che... Ciao Vieni Voglio sconfiggiti Voglio farti il culetto Io devo insegnare le nuove mosse ai pokemon Me la devo assolutamente ricordare prima del prossimo episodio Ah ragazzi scusate Dico a tutti In telecamera guardatemi negli occhi Dopo la lega Visto che Mewtwo purtroppo... Ah avrai gli occhi rossi Ho gli occhi rossi si Dopo... Ho gli occhi spalancare Dopo la lega ragazzi bisogna... Si fa... Eh... Owen eh Quindi se avete idea Eh cosa? Noi no Vabbè voi no Io si io voglio farlo Io voglio farlo Però In commenti Quale starter devo prendere? Punto interrogativo Torchic Lingeramente Dissette di Owen Si Vabbè però Lo sa io quando ho giocato alfa zaffiro Eh Cioè ho preso... Ho preso Torchic L'ho allenato fino a con Baskin Dopodichè ho catturato due routes Una maschio e una femmina Ho depositato nel box con Baskin No via Siamo finito l'avventura con i due routes Dai Una dietro per lei E l'altra carta Ma sei... Te sei illegale Te sei illegale Sei illegale Ma dov'è possibile? Cioè bambino anche con Baskin E poi ho fatto fare un figlioletto alla pensione E ora niente Neanche Blazzi che non ho avuto Non ho neanche Blazzi che è nel Pokedex Ma una cosa è che se prendevi quegli altri due Ma Torchic è almeno il meglio Cioè quell'altro Focolotta Cioè è fortissimo Focolotta Fortissimo Tante debolette Ma è fortissimo No è fortissimo Perché è Uber addirittura Se c'ha la natura giusta E l'abilità giusta Acceleratore ma Eh esatto Vaporano con scaldolo battendo i secondi Cioè ragazzi Acceleratore E' tanta roba Tipo io ho allenato Uno Yanma Con l'acceleratore E ho fatto accoppiare Yanma Con uno Shytere E mi è venuto fuori Acceleratore con lo Shytere E era fortissimo Shytere Questa non può avere acceleratore Che dici? No se lo fai accoppiare con uno Yanma Che sono tutti due con le 8 Per Mesh Ok qui ragazzi c'è E infatti Qui c'è la C'è la scelta più brutta del gioco Cioè Devi tornare indietro per forza Caramelara in avanti Esatto E poi da Da destra cosa c'è? La TM02 E gli dico Col cavolo Ho preso la TM E la Caramelara te la lascio io Mangiala te Mangiala Stronzo Io invece sto facendo entrambi Oh Mashock 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 Visto che c'è stato C'è una domanda su Mavicfuck Del nostro canale Che di Mi sembra di Ron Appunto Quali pokemon vorresti Evsare appena Lo puoi fare? Ecco Ti rispondo anche qua Ma tanto ti risponderò Anche nel video Uno di questi Te nico solo uno E Mashock Perché un Mashock Ehm 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 E' un mostro Ce lo vedo tantissimo Ce lo vedo tantissimo Non so eh Breddare Mandata 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 Ehm Mandata Ehm Ma cos'è la Io Breddo Tu Breddi E gli Bredda Come verbo Cos'è? 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 Il buio di cereali Ehm Che a me Uccidono Perché sono un celiaco di merda Quindi a me la crusca Uccide Vabbè che dici di merda No no è vero è vero è stronzo Sono un celiaco schifoso Di quelli proprio stronzi Che lo stato ci dà il buono Ci dà il buono di 140 euro Noi rubiamo soldi agli italiani Ok basta Bravo Bravo Sto facendo proprio il sarcasmo ironico A 100.000 Però ragazzi Ragazzi ecco chi è che prende la partner Vedi? 130 Eccolo Intanto noi andiamo avanti Siamo già al secondo allenatore Con meno 3 pokemon Si ci si arriva in fondo ragazzi Ci si arriva E non ho pozioni E non ho pozioni E non ho pozioni Eccolo ce l'ho ce l'ho Col cavolo Bello Comunque davvero ragazzi eh Mi raccomando Tanti a modo Non fate arrabbiare Shito Perché sennò Non vi fa uscire pokemon luna e il sole eh Cioè E' così E' lui Tanto ragazzi Chiama e fa no 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 Rimandate perché tanto qua non mi ascoltano A proposito Ma trovate che la nintendo cercava dei Cioè specificatamente per pokemon Cercava dei Degli editor video Ah si? Per i trailer E anche per Trailer tra due Ti sei proposto? Eh no Perché tra le opzioni c'era Bisognava conoscere il giapponese E io non lo conosco Mamma mia che rottura di scatole ho Mi immagino Shito che tipo c'è tutta la lista E deve fare le crocette Sì 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 Vai l'ultima NOOOOO E tipo Mori davanti No perché il giapponese Perché Cioè ragazzi Vi rientrerete conto che io andrò Alla lega con un farfetch al 60 Ma Chi mai l'ha portato un farci No Sarà arte Non sarà sfidare la lega questo praticamente Perché questa è arte Cioè Cioè Alla fine Alla fine alla sigla Col farfetch che vince la medaglia Ma come ci sta bene Cioè io ti Mamma mia c'è il pigiotto al 58 Ragazzi mi sa che io ho finito E lui è già finito capito? Vabbè lui lo sai cheater Sì Sono all'ultima stanza Mi vedo andate in doppio Sì va bene cheater Va bene cheater Vedete ragazzi Vedete ragazzi Vedete ragazzi Vedete ragazzi Cheater cheater Vedete ragazzi Vedete ragazzi avere la partner di Nintendo cosa succede? Avere la partner di Nintendo cosa succede? Vedete? Ti fanno passare Ti fanno andare avanti E' un cheater Basta Golda che però anche te se non stai a guardarmi mi dai una mano eh Per favore eh Dai Via Ti guarda in mano Cioè io sono un vecchiettino pelato Io sposto le pietre con la bici ragazzi Le ruote tipo ultra rinforzate alla carro armato Della mia bici Normale Tutto normale un po' Certo Pokémon è il gioco per la fisica praticamente Anche le cose tipo Il physique friendly Esatto Anche tipo le cose del taglio Anche le cose del taglio Perché c'è taglio se c'è volo? Cioè io non posso passarlo con volo Quell'alberello di merda No eh Esatto Esatto Ma questo non l'avevo mai pensato Sei un genio Sinceramente Neanche io Oppure non posso passarci di coccanto No dobbiamo per forza distruggere alberi Sì Normale Perché Infatti Tipo Perché la texture dell'ossigeno è bloccata dall'albero Capita qual'è il concetto Diciamo Cioè tipo Cioè Mandi fuori un pigiot enorme E dice Mi porti di là Mi porti di là E lui fa Non posso Poi muore Perché Vai No ragazzi C'è da farci un video Pokémon physics Il video così Per favore Dobbiamo farlo insieme Dobbiamo fare una cosa Oh com'è bello sincronismo Com'è bello Quando sei paralizzato Sono partito anche gli altri Bene 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 Ah 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 Capito Visto Siamo anche proprio a cantare Andiamo a fare un tour Ecco Sido Visto che hai la partner Di Nintendo Digli per favore Che in Pokémon solo e Luna Ci mettono anche l'opzione Quando vuoi sfidare un allenatore Anche per dirgli tipo Wow Cioè Hai rotto il cazzo Mi lascia andare avanti per favore Tipo Usciamo Vai 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 Ah Non ce l'abbiamo fatta Non so se qui sono getti nascosti ma Yeee Ho vinto Ma saltiamoci qua Ma c'è un labirinto anche Ma davvero Dopo il casino di vittoria Ho vinto Ho vinto Ragazzi stiamo entrando Stiamo entrando Stiamo entrando Quanto ti piace questa musica E mettiamoci tutti qua Dov'è Elcio? Elcio Si è perso Elcio Non rispondo Elcio Eh No Ma avete finito Io mi stavo girando i trailer un pochettino Il 26 anniversario Ma come? Io stavo No via basta Ok Quindi ragazzi Ok Ci siamo Ci salutiamo Ci salutiamo Ci siamo Come avrete capito Siamo proprio belli Nel prossimo video Andremo a perdere la lega Pokemon E vedremo Da notare tutti i pokemon dietro con gli occhi rossi satanici È vero Distruggerci tutti E avere quei pokemon dietro non è tanto bello Con il pokemon qua stalker Insomma quello più pedofilo di tutti Che ruba le bambine nei boschi Proprio una contenia bellissima Quindi Da il team No No Ron Non fare yay Perché avere un ipno è una cosa grave È illegale Una cosa grave No Ok Ok Chiudi l'episodio Chichiamo Shido permanentemente Quindi ragazzi Come vedete Vedi c'è già La Nintendo Che si sta possessando di lui Non mi piace Non mi piace Quindi ragazzi Un buon arrivederci Ci si vede al prossimo episodio Con tutta la lega pokemon Così che In un episodio di un'ora e mezza Voi vi tagliate la faccia Ma noi ci divertiamo lo stesso E vediamo un po' Facciamo la gara La gara A chi vince per primo la lega pokemon Esatto Non ti vince per primo Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao lì dallo studio Ciao Dai Iscriviti al canale Dai Tu Iscriviti E Mari 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 Ciao Tu Iscriviti E aspetta